Gli enti di promozione sportiva eleggono i loro rappresentanti all'interno del Consiglio regionale del CONI. Diciamo che il CSI rappresenta, è stato otto anni, quindi due mandati, sia in giunta nazionale, con il presidente del CSI nazionale che era Massimo Achini, sia in giunta regionale. Non rappresentato da me come presidente regionale, ma dal vicepresidente che era Luca Verardo. Adesso ci sono state le elezioni del Consiglio, con un cambiamento perché il presidente era Vittorio Tonello che non può ricandidarsi e ci sarà il nuovo presidente, quindi c'è stato un ricambio e negli enti di promozione sono stato eletto anch'io come secondo votato, quindi sarà una nuova esperienza. Che importanza ha appunto questo ruolo all'interno del Consiglio regionale del CONI? Diciamo che appunto il CONI, ogni federazione, ogni ente di promozione sportivo si rapporta con il CONI, quindi tutte le società sportive sono in regola comunque riconosciute dal CONI. Il Consiglio ha un ruolo più di ratifica delle manifestazioni. Diciamo un ruolo più operativo è quello della Giunta, perché è un ruolo più ristretto. Il Consiglio è molto allargato, quindi stessa struttura posso rapportarmi nel CSI, cioè la presidenza del CSI è quella operativa, è quella che comunque dispone, comunque le manifestazioni, le cose da fare, il Consiglio è quello che le ratifica.